E trovo che sia interessante studiare la moda, capire cosa c'è dietro la moda, perché in realtà dietro c'è molto di più. La moda, raccontavamo anche nel passato, pur non avendo una valenza, una connotazione specifica sul sociale, però è riuscita a restituire, per esempio, delle diapositive di un'epoca. Assolutamente. Se noi pensiamo agli anni 90, le foto che nella nostra mente riaffiorano sono... Più vestiti che altri. Sono legate a... Delle immagini che sono riconducibili alla moda. Ma sai, la moda e il cinema sono due industrie che vengono viste anche come entertainment, ma in realtà hanno costruito anche il nostro immaginario. Il cinema, anche perché sono venuta qui per la triennale, per cui mi viene spontaneo parlare di questo legame. Se tu pensi a quanto il film e la moda ha influenzato l'immaginario della moda italiana, del made in Italy, del lifestyle anche italiano, intorno al mondo, sono territori in realtà dove convergono moltissime cose, parlano della contemporaneità e creano anche questi mondi immaginari, per cui dove uno si proietta e quindi attraverso l'abito, attraverso anche la città che rappresenta il film e in qualche modo incidono tantissimo. Poi capisco che voi generazionalmente... Beh voi, io e lui guarda che siamo due generazioni che potete essere mio padre. Sì però in pratica però ambedue potete essere miei figli, facciamo così, ambedue potete essere miei figli. È ovvio che voi avete una visione diversa, a me parlare con voi a volte mi sembra come discutere con i miei figli, perché io poi sono stata anche molto attaccata dai miei figli, ovviamente, rispetto a quello che faccio, criticata, in modo anche feroce rispetto alla moda. Addirittura? Ah sì sì, io ho proprio un figlio assolutamente no logo, assolutamente minimal, consumo a zero, da quando è nato, anche se i pantaloni a volte li stanno veramente stretti, sarà il caso che se li cambia, perché ce l'ha da quando c'è al 14 anni lo stesso paio di pantaloni, che ha sempre rifiutato la moda da appena nato, non so, forse ha capito subito che c'era la moda in casa. Quello forse è proprio il ricetto. Non ho mai visto mio figlio con un logo, cioè proprio...